Dopo le vaccinazioni ai over 80 che si sono tenute nelle scorse settimane presso la sede del pronto soccorso dell'ospedale civile di Agropoli, inizierà fra qualche giorno, sempre nei locali del nosocomio agropolese, la somministrazione del vaccino ai docenti, dirigenti scolastici e al personale ATA residente, di supporto per lo svolgimento delle attività amministrative, anche personale messo a disposizione dal comune di Agropoli. Si inizierà a somministrare giornalmente 50 dosi di vaccino AstraZeneca con un programma settimanale nei feriali da lunedì al venerdì dalle 14 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 14 per arrivare ad un numero di 100 dosi giornaliere. Volendo citare una parabola evangelica di Gesù è il caso di dire che gli ultimi saranno i primi, dunque se in altri comuni del comprensorio le vaccinazioni sono iniziate già da tempo, nella città di Agropoli la direzione distrettuale ci ha messo un po' per avviare la campagna vaccinale, ma per fortuna siamo in zona rossa e la scuola è parzialmente chiusa. E di questa mattina la nota stampa della regione Campania in relazione alla campagna vaccinale in atto si continuerà a fanno sapere con priorità vaccinare personale sanitario, ultraottantenni, categorie fragili e disabili, personale scolastico e forze dell'ordine, servizi pubblici essenziali. L'auspicio dunque è che la campagna vaccinale possa proseguire con celerità anche nella città di Agropoli senza intuppi e perdite di tempo.